Pirati rosiamo da Beba, veniamo! Un successo oltre ogni più rosea aspettativa, la nona edizione della Notte dei Pirati a Porto Ercole organizzata dall'8 al 10 di maggio dal Comitato Pirati, assieme alla Proloco di Porto Ercole e con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. Migliaia le persone ad assistere all'evento altamente spettacolare dei pirati che tra fuochi artificiali, fumogini e colpi di cannone sono sbarcati sulle spiagge del Porto e poi la sfilata per le vie del paese alla ricerca del tesoro. Vincitori di questa edizione sono stati i Cricchi Neri, seguiti nell'ordine dai Pirati di Sgalera, La Baia del Rock, Armada Burlesque, Tutti in Cambusa e i Pirati di Monte Cristo. Le telecamere di Arezzo TV hanno ripreso l'intera manifestazione. La trasmissione dedicata alla Notte dei Pirati di Porto Ercole andrà in onda a partire dal prossimo 20 di maggio sul digitale terrestre nel canale 214 di Arezzo TV e 89 di Di Lucca e nel bouquet di Sky in chiaro, canale satellitare Blu 940 e la nuova TV 840. Grazie a tutti!